Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, a gran richiesta, dopo il video di ieri, ho deciso di portarvi le tattiche del buon Levi de Verde. Quindi un altro appuntamento del Play Laika Pro. Ci andiamo ad analizzare quelle che sono le tattiche del suo 4-2-3-1 che abbiamo visto appunto all'opera ieri nel match di qualifica contro il buon Daniel Wolf. Quindi abbiamo visto come questo modulo sembra, insomma, ritornato abbastanza in moda, soprattutto a livello competitivo e quindi ci andiamo a vedere come il piccolo talento olandese lo va a interpretare. Senza perdere ulteriormente tempo in chiacchiere, passiamo sulla schermata e a fine video ci andiamo ad analizzare anche poi le due versioni di Pedro uscito un'oretta fa. Quindi, spostiamoci in game e intanto potete vedere la mia squadretta abbastanza esotica per il momento, ovvero Gomez base, mania 5 d'intesa che devono essere sostituiti da Walker Ife più Rashford 87 e magari qui, che ne so, un bel Varane pick dalla top 100, sarebbe top. Andiamoci a vedere però le tattiche del buon Levi. Quindi abbiamo detto 4-2-3-1. 4-2-3-1 e già per quanto riguarda ampiezza e profondità abbiamo delle novità rispetto a quello a cui ci eravamo abituati ultimamente. Ossia, stile d'intesa, difesa, equilibrato e su questo bene o male ci siamo. Ossia, vuole essere lui padrone di quelle che sono uscite eccetera eccetera. Quindi non va a utilizzare ripiega, pressing eccetera eccetera per avere la squadra abbastanza compatta. Ampiezza 4, anche qui nulla di eccezionalmente nuovo visto che è il parametro che ad esempio utilizzo anche io e serve ad avere la squadra abbastanza stretta per evitare che appunto si vadano a creare varchi e si vadano a subire tanti filtranti. E poi abbiamo profondità 4. Questa è la grande novità perché profondità 4 rispetto al 7, all'8 che siamo abituati a vedere di questi periodi per lo spam della trappola del fuorigioco in automatico è in assoluta controtendenza perché la squadra è molto più bassa e ti permette di difenderti molto al limite dell'area. E questo può essere però un'arma a doppio taglio perché da un lato l'avversario magari riesce a bucarti dall'altro dimostra comunque anche una grande confidence da parte sua nel switchare bene tra i suoi giocatori e evitare che questo possa accadere difendendosi tanto e bene al limite dell'area. Per quanto riguarda lo stile d'attacco anche qui abbiamo una prima differenza assoluta rispetto alle tattiche che siamo stati abituati a vedere fino ad ora perché abbiamo visto qualche volta il palla lunga, il manovra veloce, in questo caso abbiamo possesso palla. Di fatti ieri vi avevo fatto notare come addirittura avesse avuto il 74% di possesso palla nella prima frazione di gioco contro il Bondani ed ecco spiegato il motivo. Quindi gioco molto 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 ragionato, basato proprio sulla stile d'attacco di possesso palla che permette dunque alla squadra di avanzare in maniera molto più ragionata rispetto anche ad un equilibrato. Proprio la squadra richiede un certo numero di passaggi prima di poter andare a costruire una manovra offensiva. Per quanto riguarda l'ampiezza siamo su 6 quindi per avere COS e COD abbastanza larghi e creare spazi centrali per quanto riguarda la presenza della punta e quella del COC che abbiamo visto si butta tanto all'interno dell'area di rigore Giocatori in area abbiamo 4 quindi non abbiamo un parametro altissimo per evitare che si vada a creare troppa densità all'interno dell'area dove abbiamo visto lui cerca sempre di sfruttare invece l'ultimo passaggio fatto con uno dei due mediani o con uno dei due COS e COD sui due giocatori di riferimento che diventano l'attaccante all'interno dell'area di rigore è il COC che si va a buttare dentro. Angoli e punizioni invece abbiamo il classicissimo 2-2 per evitare fastidiosi contropiedi quindi su questo siamo abbastanza regolari. Per quanto riguarda le istruzioni anche qui abbiamo delle chicche perché abbiamo su entrambi i terzini resta dietro in attacco ma piuttosto che attacco misto abbiamo sovrapponiti sovrapponiti vuol dire che ogni qualvolta voi buttate il terzino in avanzata vi va sempre all'esterno del vostro portatore palla molto molto utile questa cosa di fatti anche io sto utilizzando sovrapponiti nel mio 4-4-2 e non attacco misto per evitare che scattando alle volte il giocatore vi taglia dentro e non fuori e non vi crea dunque quello spazio per l'avanzata degli esterni o per l'avanzata del terzino stesso per quanto riguarda i due mediani abbiamo resta dietro in attacco e copertura al centro quindi istruzioni abbastanza classiche non ha neanche un equilibrato su gullit niente lui va tranquillo così con entrambi su resta dietro copia al centro senza neanche intercettare linee di passaggio quindi scelta da parte sua sempre abbastanza ponderata nell'andare poi lui a gestire i switch e i momenti di uscita per quanto riguarda i tre invece di posizione offensiva abbiamo per quanto riguarda Neymar rientra in difesa ed entra in area per il cross come avevo fatto notare infatti quel Neymar era praticamente una seconda punta stessa cosa anche per Cristiano Ronaldo e Manet quindi COS, COC e COD sono tutti impostati su rientra in difesa entra in area per il cross in maniera tale che vi fanno sì aiuto alla fase offensiva ma vanno anche a dare una mano in difesa a rendere ancora più compatto questo schieramento per quanto riguarda invece l'ATT quindi la punta centrale abbiamo attacco misto quindi è lui che va a gestire gli inserimenti magari facendo scattare con l'L1 senza andare a impostarlo in maniera predefinita per evitare che l'attaccante si ritrovi alle volte isolato quindi queste qui sono le istruzioni e sono curioso di andarle a testare dopo averle viste all'opera passiamo ora invece alla seconda fase del video quella dove ci andiamo ad analizzare il buon Pedro Goncalves carta, devo dire la verità abbastanza simpatica e vi spiego perché andiamoci ad analizzare prima questa sua versione CC e parliamo di un giocatore di 1,73m alto normale 4 di skill, 4 di piede debole con discreti parametri di velocità ottima potenza tiro e finalizzazione per un CC passaggi veramente notevoli sia il corto che il lungo agilità 85, equilibrio 84 reattività 85 con poca forza lo rendono molto 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 agile quindi veramente interessante come carta parametri difensivi neanche così male perché se andate a guardare le statistiche sono tutte fatte bene quello che gli va a limitare un po' quel parametro di difesa sono la precisione di test e la scivolata che poco importano però 80 di lettura difensiva 82 di contrasto in piedi e 81 di intercettazioni quindi secondo me questo qui è veramente un CC abbastanza interessante e vi dirò per me può fare sia il CC nel 4-4-2 che volendo anche il CDC in un 4-2-3-1 hanno giocato un po' alla canteva diciamo e può essere un'alternativa cheap per poter andare a linkare magari Cristiano Ronaldo al posto di un Renato Sanchez o stessa cosa ha un'alternativa economica a un Bruno Fernandes quindi molto interessante questa versione qui a dispetto di questa invece in versione esterno che chiaramente riceve un boost per quanto riguarda l'accelerazione il tiro eccetera eccetera però ha dei passaggi che sono scadenti rispetto alla versione precedente lievemente scadenti l'agilità è sempre quella ma ovviamente subisce un downgrade pazzesco per quanto riguarda la fase difensiva questo qua si va a buttare in quello che è il calderone degli esterni esterni che è vero che a destra magari c'è un po' di carenza però attualmente tra le SBC abbiamo il Cristiano Ronaldo flashback che è molto più valido onestamente anche molto più versatile perché questo è sì portoghese ma è del campionato anche portoghese stesso quindi più difficilmente ibridabile e insomma non è né carne né pesce a questo punto del gioco a dispetto della sua versione CC che invece secondo me è molto molto interessante ribadisco il concetto quindi se dovessi andare a scegliere chi sbloccare tra queste due versioni del buon Pedro con Calves andrei tutta la vita sulla versione sulla versione CC che insomma secondo me è davvero davvero interessante e nulla raga per quanto riguarda questo video è tutto fatemi sapere che ne pensate delle tattiche fatemi sapere che ne pensate di questo Pedro se andrete a sbloccarlo o meno vi ricordo di lasciare un like un commento iscrivetevi al canale trovate in descrizione tutte le info per le live giornaliere sulla piattaforma viola e a me non resta altro che salutarvi ragazzi un salutone ciao ciao